Ciao mamma, oggi giocherò con Francesco Totti Saliamo su in camera, neanche il tempo di appoggiare le robe e subito a mangiare Eccoci Ragazzi, oggi voglio solo dirvi che oltre a Francesco Totti ci sarà anche Battistuta E ho scoperto poco fa che non partirò a titolare, almeno, credo, perché giocherà Dida Tanta roba c'è ragazzi Per una volta nella mia vita farò il secondo di un portiere che ha vinto tutto quello che c'era da vincere Però è stato un sogno che si realizza Sono veramente emozionato, vi dico solo che mi sto cagando addosso Tornati dentro, si va a mangiare Vediamo che ci offre un po' l'hotel Ciao bro Mio fratello, come stai? Bene bro Sai che stiamo facendo il vlog? Abbiamo capito, vai a lavorare, è la giornata importante Questo è quello che mangiano i calciatori prima delle partite È Ubaldo Pantani Durine Poco pane Pane, se no stasera chi è che fa i lanci precisi? Ci vorrebbe un portiere forte Eh, gioca Dida al posto mio Vabbè, comunque ci stanno Poi c'è un ragazzo che è un argentino là Che dice che sei stato un giocatore Dice? E tu cosa gli dici? Va Battistuta sia Chi è? Oddio, che è arrivato Ciao fratello Andiamo con il volo? Ciao, raggia Oh Vuoi sedere qua nel tavolo? Vai lì, vai lì, frate Oh, hai finto di far casino? Dai, facciamo un po' di calcio Vada, ma si è appena attivato Moreno Voi che lei sapete di Moreno Però che tavolo importante qua Qua l'età diffusa Oh, genovese Oh, scusa Mi puoi dire un come volo? Mi puoi dire un come volo? Eh? Un come volo? Come volo? Come volo? Come volo in capelli? Come volo! Oh, Rov, un come volo qua? O come mangi? Un volo! Oh! Che sai che vuoi? Che sai che vuoi? Che sai che vuoi? Ci manchia la cosa, Dio? Non lo so, però chi ti ha fatto brillare Vabbè, Rov è Oh, bro, mi firmi il pallone, per favore? Dici? È bello? Hai firmato bene? Volevo scriverti come volo, da qualche parte Oh, no Bro, per favore, mi firmi il pallone Mi sa che ti ho incontrato per caso Io firmo con la X Dove vuoi? Beh, ho appena sfondato Bello! Queste sono le prime firme che fai sui palloni Sono Spacca! Olè! Ah no Grazie, brodi Ti firmo anche l'è Ragazzi, prima della partita del cuore Capello Devo farmi il capello perché è un po' bruttino Servi tu per sistemarlo al 100% Bossa originale Eccolo lì, ragazzi Opla, ragazzi Qualità disumana Eh? Eh, tanta roba, bro Scusa, quanti gol ha fatto lei? 120 Ok, vabbè, dai, può finire qua il video Allora, finita la conferenza Capello fatto Una bella laccata Un bel cagnolino Peluche Adesso riposo in stanza Come voi Ragazzi Che emozione, davvero Qualcosa di folle Cioè io sono qua a riposarmi Sono carichissimo Nello stesso tempo Un sacco di brividi, di emozioni Cioè prima ho mangiato di fianco al tavolo C'era Valti Stuta Valti sta arrivando da Roma Manca sempre poco L'ansia aumenta sempre di più Però io intanto so qua in C È la partita del cuore Ragazzi, mi è scelta molto difficile Siamo arrivati agli sgoccioli di questa edizione Vince la Coppa Miglior Mister d'Italia È stata molto dura Abbiamo una battistuta Andiamo a bere bene Andiamo a bere bene Non vi preoccupate Ditelo perché siete qui Qual è la vostra difendenza? Adesso andiamo in un stanza Dovrebbe essere lui O è Pecchini Oh amore Allora sta partita del cuore Cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Puoi fare il 121esimo? Sarebbe importante Da chi sono i l'assist oggi? Beh, abbiamo diversi campioni C'è Francesco Zotti Battistuta Prove Io me lo aspetta Adesso ci spediamo una bella esultanza No, infatti Basta fare la stessa Adesso entriamo Forse 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 Col Brody Col Brody Buonasera Buonasera Questo è lo spogliatore della nazionale Totti Ragazzi, Totti qui Il GK qua Un tappeto Che spettacolo Che spettacolo Campetto veramente illegale Guardate qua Un tappeto Massaggio prepartita ragazzi Mi sono visto Uno rottame Ciao mister Ciao mister Nida numero uno E poi abbiamo il centrocampista Dei piedi buoni Ciao a tutti Tra poco in campo Attenzione Finito Stato un'emozione Indescrivibile Ragazzi Cosa di veramente Unico Folle Ho fatto la foto con Dida Ho fatto la foto con Totti Con Battistuta Ero di fianco a Arcomi E poi di fianco a Arcomi C'era Totti Ero Attanto così ragazzi Veramente Una Mi viene da dire Follia Ma nel senso positivo Poi vi lascio anche Il mio Instagram Se volete vedere I post che ho messo con loro Devastante Cioè raga Veramente una roba Un'emozione unica Indescrivibile Una cosa che Spero mi possa capitare Un'altra volta Magari l'anno prossimo Per la partita del cuore Quello che sarà Ma Era la mia prima volta Cioè raga Veramente Follia pura Sono entrato in posto di Dida Ragazzi Infatti una cosa che gli ho detto Gli ho detto Cavolo Oh Quanti portieri E li sono entrati Al posto tuo Mi fa veramente pochi Quindi Cioè ragazzi Il GK Il mister come volo Entrato al posto di Dida Wow Mi viene da dire solo questo Poi averli dentro Lo spogliatoio Vederli girare Parlarci Non so Non so se andrò a dormire Stasera Anche perché Adesso è mezzanotte e mezza E alle sei e mezza Ho un altro Un volo da fare E vi faccio uno spoiler Andrò a Londra A fare il video Con un giocatore del Chelsea Che ha vinto la Champions League Devastante Cioè ragazzi Sto weekend qui è veramente folle E ringrazio ancora La Nazionale Cantanti Che mi ha permesso di vivere Queste emozioni Che sono Ripeto ragazzi Sono ripetitivo Indescrivibili Madonna ragazzi Vi faccio vedere un po' di cose Dai Ragazzi Voglio farvi vedere Il pallone Delle firme Qui abbiamo la firma di Dida Cioè veramente Folle Qui San Giovanni Ercomi E poi voglio farvi vedere Quello di Rove Eccola qui Quello di Virginio Come vuolo Enrico Ruggeri Con il 10 Poi abbiamo Mamma mia Che cosa abbiamo qui Che cosa abbiamo qui Che cosa abbiamo qui Francesco Totti Francesco Totti Battistuta La firma di Battistuta Non so Se è chiaro Da chi mi sono fatto Firmare Questo pallone qui Spero di vivere Altre emozioni simili Il video finisce qui Non so più cosa dire Sono senza parole Non ho potuto farvi vedere Che sono entrato in campo Magari Non lo so Qualche clipina La trovate su Su Instagram Lo stesso Ragazzi Da Serie GK È tutto Lino allo studio Iscriviti al canale Produttore 100.000 Ci vediamo al prossimo video Come volo